Come erano i miei giocatori? Anche volendo non avrei potuto far finta di nulla con loro, tra l'altro hanno scommesso, spesso ho rubato dei soldi ai nuovi perché pensavano che non piangessi, invece ho fatto vincere dei soldi a Marco, ma chi ha fatto poi vincere dei soldi a Marco è la gente di Varese che mi ha per l'ennesima volta dopo 26 anni, perché è la prima volta che ho messo piede a Varese da giocatore. Di Paracanestro con una felpa arancione orribile, sono passati appunto 26 anni quindi sono e sarò eternamente grato a questa città, abbiamo vissuto delle cose incredibili, è un posto meraviglioso anche se sono tornato qualche volta ad avversario, quello che si espira in questo palazzo non si espira da nessun'altra parte. È logico che poi io ho giocato anche in altri posti, mi sono affezionato anche in altri posti, mi sono affezionato alla Sardegna, ma tutto ciò non vuol dire che Varese nel mio cuore abbia logicamente un posto importante, elitario. La gente lo sa, io sono nato qui, la gente mi ha conosciuto, mi ferma per la strada in qualsiasi posto d'Italia e pensa che io sia a di Varese e questo mi fa chiaramente sempre molto piacere. Dalla curva a tutti i settori del palazzetto, ripeto, dopo anni e anni c'è ancora, e anche dopo una parentesi non tanto fortunata, non così sfigata, ma non c'è ancora questo rapporto. Perché questo rapporto secondo me va al di là, quello che poi io cerco sempre di raccontare, che secondo me nel nostro mondo dobbiamo vincere, di vivere un po' meno di vittorie. E questo è l'esempio, io sono estremamente orgoglioso di averlo vissuto come coprotagonista, perché ripeto, il protagonista di questa Sardegna Varese, perché così questo è lo sport. Niente, mi piacerebbe parlare ancora di questa cosa qua, ma magari qualcuno si annoia. Mi dispiace, perché se c'è un posto dove non sarà così falso ipocrita da dirvi che non sono contento della vittoria, perché sono pressionista, ne avete conosciuto, sapete com'è, è vivo. Però durante la partita sono stato estremamente calmo, perché non avevo proprio quel fochissimo dentro. Perché giocare contro Varese mi condiziona molto, si è visto. Però devo fare i complimenti ai miei ragazzi perché sono stati straordinari e secondo me in questa partita ci sono tanti meriti nostri. Pochissimi di meriti di Varese, che ha giocato una partita di grande intensità nel primo quarto, è rimasta attaccata a noi, aggrappata, cercando di metterci in difficoltà sia in attacco che in difesa, andando a ribatto d'attacco, facendo cose che si fanno con l'energia. Però poi alla fine avete pagato l'assenza di un giocatore importante come Clark. Siete poi una squadra che ha cambiato, avete Tambone, Ferrero, però sostanzialmente c'è un po' un nucleo, chiaramente avete il grande Antiglio, che è un allenatore che vi farà dormire sono tranquilli, anche stasera non dovete assolutamente essere preoccupati perché questa squadra ha bisogno di tempo, secondo me è la vostra, ma il tempo darà la possibilità a Tiglio di lavorare con questi ragazzi che hanno dimostrato oggi comunque di avere grande spirito di sacrificio. La cosa poi indispensabile, io l'anno scorso parlavo spesso con Dominic Arci e gli dicevo quanto fosse poi fruttuoso il fatto di giocare per la Tiglio, di seguire tutto quello che gli avrebbe detto e che gli ha detto. Sono sicuro che farete una grande stagione perché avete quei due o tre ingredienti che servono per fare bene, avete una società stabilissima, con persone eccezionali, mi dispiace che sia qui perché sembra che lo dica solo perché è qui presente, ma Castelli è un grande uomo, è venuto a trovarmi oggi, sono cose che a me fanno tutta la differenza al mondo, ma comunque spiegano un po' che tipo di persona sia Alberto, con Totto, sapete come fosse un secondo padre, e poi avete una cornice di pubblico e una passione che è indispensabile. Noi ce l'abbiamo in Sardegna ed è decisiva. E poi avete una buona squadra che è un grande allenatore, quindi farete bene. Noi poi in più dovete anche incontrare, dovete anche mettere in conto che noi abbiamo giocato la Supercopa qualche giorno fa e poi l'abbiamo vinta, quindi siamo arrivati qui con grande fiducia e in più eravamo già pronti a giocare una partita vera, cosa che chiaramente voi, non avendo avuto questa possibilità, eravate un po' per certi versi. Anche noi abbiamo pagato lo scotto, per esempio nella prima partita contro Cremonù, dovete anche mettere in conto che noi abbiamo giocato la Supercopa qualche giorno fa e poi l'abbiamo vinta, quindi siamo arrivati qui con grande fiducia e in più eravamo già pronti a giocare una partita vera, cosa che chiaramente voi, non avendo avuto questa possibilità, eravate un po' per certi versi. Anche noi abbiamo pagato lo scotto, per esempio nella prima partita contro Cremonù e in Supercopa abbiamo fatto molta fatica, quindi questo è un altro fatto secondo me determinante. Però ripeto, adesso devo parlare un po' dei miei, sono contento che abbiamo giocato una pala canestro di grande coinvolgimento, hanno giocato tutti bene, tutti coinvolti in attacco e difesa, abbiamo giocato passandoci la palla, Varese ci ha messo in difficoltà facendo show aggressivi, noi siamo stati bravi ad alzare le sponde, siamo stati bravi a rollare con Miro, siamo molto contenti della prestazione che siamo riusciti a mettere in piedi, e stavolta sono molto contento perché non usurranno la mia carta di credito, ma usurranno quella dei presidenti e quindi è giusto che vadano, è giusto che vadano. Una delle cose più belle qui a Varese negli anni è che noi finite le partite andavamo prima da Gennaro e poi a Vela sempre c'era un clima, mi ricordo, un'atmosfera fantastica, te lo ricordo di Lois, ho ottenuto l'Alzheimer, il Cionto, ed è una cosa che io in tutte le squadre cerco di ricreare, quindi concedo cose che magari altri anatori non concedono, chiamo domenica, abbiamo un po' di tempo per recuperare, quindi è giusto che si deve. Se avete delle domande... Ciao Germano, per me è molto della vostra stagione, come tu vorrei gestire, perché in oggi l'ho visto molto altruista, molto playmaker, lo spero un po', visto che è un giocatore che è arrivato, e ha visto il suo arrivo come, ti stava assoluto come, il suo potenziale, anche perché è un giocatore che deve collegare e può fare delle domande. Sono d'accordo con te, non ti guardo perché se no, se vuoi farlo... Come stai, amore mio? Sto guardando con te? No, sta bene, ho visto che facevi così. No, infatti è una cieca. È una cieca, è una cieca. Ci hai detto bene, noi abbiamo avuto la grande sfortuna, barra fortuna, l'abbiamo voluto ardentemente, accontentare Achille Polonara, che ha avuto un po' l'occasione della vita, o quella che lui riteneva, giustamente fosse la sua grande opportunità di giocare la loro Liga, e abbiamo vissuto una parentesi bella, perché l'abbiamo accompagnato in aeroporto in lacrime, ma non perché eravamo dispiaciuti che se andassero, ma perché, come quando un amico o un figlio va a studiare all'estero, piuttosto che, quindi... Ma è una scelta logica per una città come la nostra, che basa molto la sua filosofia, anche sul sentimentalismo, con i suoi rapporti umani. Detto questo, abbiamo avuto, dire la fortuna, una percentuale sì, perché Mekling era sul mercato, però è anche vero che abbiamo un grande general manager, che è Federico Pasquini, anche questo Pirla che è qua davanti a me, che lavorano quotidianamente, indipendentemente da quello che succede sul mercato, sono molto attenti, quindi abbiamo preso un giocatore... Oggi abbiamo mangiato l'una, e mi racconto perché non me ne fregarà niente, ma è venuto da me e mi ha chiesto posso andare a metà a tagliare i capelli? C'è i capelli così? E ho detto, dove? A Milano? A tagliare i capelli? E che hanno questo barbiere, mi hanno spiegato, poi hanno questo barbiere a Milano, tagliare i capelli agli afroamericani, prevalentemente un genio, dicono, taglio. Gli ho detto, guarda, io non so come è stato così. Castelli, te, Dante, questo problema è ormai. Loris. E niente, l'ho lasciato andare, ma perché proprio mi fido della sua professionalità? Forse è stato un altro, probabilmente non l'avrei lasciato andare, ma... Hai detto bene, è un giocatore di grande disponibilità, intelligenza, pur non avendo fatto un bottino, penso, cospicuo. Ma sai, noi abbiamo rotazione di corti quando giochiamo bene, perché giochiamo bene in tanti, perché siamo prevalentemente, come idea, abbiamo insomma cercato di fare una squadra un po' più corta, con grande responsabilità, e hanno giocato bene tutti, McLean, però sicuramente è stato uno degli artefici. Grazie. Grazie. Io vorrei una domanda, veloce. Certo. L'anno scorso avete vinto la Coppa, avete giocato tre giorni dopo, la stessa qualità di oggi, a Trieste, è un campo difficilissimo, dominando più 20-25, significa o che la decretà non funziona, o che a livello di mentalità, dopo un mese, siete già a un punto. La tua bari è funzionata, però Andrea. Guarda, stanno succedendo delle cose nel mondo dello sport, che mi rendono, mi rendono quasi, mi avrebbero reso felice da giocatore. Oggi si dà molta importanza a riposo. Noi abbiamo fatto lunedì libero, martedì, abbiamo fatto un aumento non fasciati, cosa che faccio raramente, e ieri siamo arrivati al palazzetto e c'era condessa, quindi non ci siamo tutti a allenare. E abbiamo giocato così. Stiamo dando, abbiamo un preparatore atletico, Buccolini, che è vicino all'essere un genio, vicino perché è ancora in età, è giovane, quindi diventerà il migliore nel suo campo in assoluto. Mi sta addosso proprio su questa cosa qua, sui minutaggi, i tempi di recupero, il giorno libero. Oggi un po' figlia, sì, come dicevi tu Andrea, di questa situazione qua. Abbiamo vinto, confidenza, erano freschi e sono stati bravi.